ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare di questo ricettario che me l'ha mandato passioni libri editrice dove mi ha personalizzato questo libro che comunque è enorme un ricettario dove comunque è personalizzato e che comunque potete fare anche generico ma comunque al suo interno è schematizzato con internet procedimento porzione tutto il resto è davvero comodissimo perché si possono inserire 100 ricette ed è proprio bello proprio perché quando non ci troviamo internet a disposizione ma comunque vogliamo prendere subito una ricetta già lo trovo subito in questo libro non vedo l'ora di scrivere le mie ricette e quindi vi lascio il link qui sotto dove potete comunque richiedere un ricettario personalizzato anche come da regalare è molto bello perché è grande e quindi vi lascio il link qua sotto e ringrazio ancora passioni libri editrice ciao